Continua evidentemente questa unione tra quello che è il mio lavoro e quella che è invece la giornata di oggi. Sono contento, come ho detto, onorato di essere qui, di presenziare, di essere uno dei due giudici insieme a Francesca, plurimedagliata, pluricampionessa e quindi lo sport è cultura, lo sport è aggregazione. Quindi oggi penso che sia proprio una giornata che possa rappresentare in pieno lo sport. Bisogna fare in modo che ognuno possa avere la possibilità di partecipare e di fare dello sport, perché intanto proprio da un punto di vista fisico ma anche mentale lo sport fa bene, quindi invito anche le stesse famiglie a non tenere nascosti i propri figli che possono avere questo tipo di problema, ma portarli e farli divertire e farli giocare, perché lo sport, ripeto, penso che possa far bene.